La cooperativa sociale Identità di Acireale prosegue le sue attività di sostegno ai malati di Alzheimer all'interno della Casa della Speranza Viviana Lisi di Riposto. Già da due anni la cooperativa porta avanti l'esperienza del caffè Alzheimer, una realtà già consolidata nel resto dell'Europa ed in crescita anche in Italia. Un sostegno rivolto non solo ai malati ma anche ai familiari colpiti da un senso di impotenza di fronte alla patologia. Ieri in occasione della ventunesima giornata mondiale dell'Alzheimer la cooperativa ha organizzato un incontro aperto a tutti gli utenti del comprensorio ionico. Abbiamo pensato di aprire una giornata alla cittadinanza per informare appunto sulle attività prettamente non farmacologiche. Ne parlavo adesso con i familiari che oggi ci sono venuti a trovare. Noi offriamo delle attività che sono la riabilitazione cognitiva, la musicoterapia, anche attività e esaltorementi di petterapia. Questo fa sì che il malato di Alzheimer possa avere uno sfogo al di fuori della permanenza passiva dentro le mure di casa e allo stesso tempo dà un sollievo al coniuge che si occupa, al caregiver che poi viene considerato in parte la prima vittima della malattia. Negli anni i risultati a breve e a lungo termine non sono mancati. I risultati, possono dirlo anche i familiari stessi, sono molto semplici, però comunque si vedono più che altro da parte della famiglia, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. La persona che frequenta già il centro è molto più calma e riesce a dare un po' di pace e serenità a chi gli sta vicino nelle ore pomeridiarie. Poi gli effetti a lungo raggio si vedono. Noi facciamo degli incontri saltuariamente con i familiari perché dobbiamo curare l'aspetto della famiglia, del caregiver, tanto quanto quello dell'utente e per cui in quelle occasioni mettiamo tutti i risultati ottenuti attraverso un monitoraggio e valutazione delle attività fatte.